In queste ultime settimane il dibattito sulla prescrizione è tornato in Parlamento, anzi è arrivato persino a minacciare la stabilità del governo. Da un lato ci sono coloro che ritengono che questo istituto giuridico, che rende non più perseguibile un delitto dopo il passaggio in un certo periodo di tempo da quando è stato commesso, debba essere indebolito, alcuni lo ritengono, poiché sostengono che renda difficile perseguire una serie di reati. Dall'altro invece ci sono coloro secondo cui limitare la prescrizione sarebbe un attacco inaccettabile ai deliti degli individui e inoltre constriggerebbe gli accusati a tempi anche molto lunghi prima di essere giudicati. Ne viene fuori che cosa? Un derby tra giustizialisti e garantisti. Ma forse c'è di più? Le chiediamo a lei, Avvocato Simone Grisenti. Dunque c'è di più, o anzi molto di più, dietro a questo presunto derby tra giustizialisti e garantisti? Sicuramente c'è molto di più. C'è una battaglia di civiltà. Perché? Perché in realtà la prescrizione che è forse poco conosciuta o conosciuta solo negli aspetti della cronaca è una cosa estremamente importante. Perché? Perché se la vediamo con il ragionamento dell'uomo da bar, per così dire, quindi quello che pensa che vedi un altro se l'è cavata, può sembrare una sorta di meccanismo con cui si riesce a infilarsi tra le maglie della rete a farla franca. In realtà è un sistema di limitazione delle inefficienze dello Stato, perché sostanzialmente stabilisce un orizzonte temporale entro il quale la pretesa punitiva dello Stato deve in qualche modo giungere alla sua conclusione. Questo perché? Perché obiettivamente non è ragionevole e nemmeno compatibile col dettato costituzionale della CEDU che il cittadino si possa trovare ad essere sostanzialmente processato per sempre. Io cito questo esempio che mi ha molto colpito di recente. Mi sono trovato ad ottenere una sentenza di non luogo a procedere per un mio cliente che era accusato di bancarotta fraudolenta, sottrazione di somme, insomma una cosa abbastanza importante. Dopo sette anni, cioè dopo sette anni non è che siamo arrivati alla sentenza di primo grado, dopo sette anni qualcuno si è accorto che quel signore non andava nemmeno processato. Nel frattempo questa persona è vissuta con questa croce sulla testa, con le persone che lo guardavano pensando che forse tutto sommato si era processato, motivo c'era, e quindi ecco questo secondo me dà la rappresentazione plastica delle problematiche. Quindi, tornando alla sua domanda, è solamente un derby tra giustizialisti? No, è un problema a questo punto di fondamentale civiltà, perché se è pur vero che in altri ordinamenti europei come per esempio è uscito la Germania, esiste, è vero che non hanno la situazione della giustizia che abbiamo in Italia. Con questa situazione, questo tipo di riforma e questo tipo di provvedimento può portare effetti gravemente lesivi per la dignità e per i diritti del cittadino. E allora, siccome lei, Avvocato Grisenti, ha fatto riferimento all'estero, è vero noi abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata partendo da un derby tutto italiano sulla prescrizione tra giustizialisti e garantisti, però guardiamo che cosa ne pensano all'estero della prescrizione italiana. Il Greco, che è un'organizzazione anticorruzione del Consiglio d'Europa, ha definito la prescrizione il vero e proprio tallone d'Achille del sistema giudiziario italiano e ha invitato i governi italiani a modificarla. Sono intervenuti anche l'Ox e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che hanno spesso pareri pressoché simili, mentre la Commissione Europea ripete quasi ogni anno le sue critiche, le proprie critiche al sistema italiano. L'accusa qual è quella della Commissione Europea e dell'Europa? Tanto per ridurla in parole molto semplici. È che la prescrizione impedisca che una quota cospicca di persone che sarebbero giudicate colpevoli di reato non venga invece giudicata o condannata. Dall'Europa ci tirano le orecchie a più riprese. Ma in realtà bisogna vedere bene quello di cui stiamo parlando perché per esempio quando andiamo a citare il cosiddetto greco che è un organo della Commissione Europea sostanzialmente in realtà è il discorso più complesso. Noi facciamo riferimento a una sorta di tirata d'orecchia ma attenzione che riguarda il modo di perseguire i reati legati alla corruzione. E che cosa ci dice se andiamo a leggere il report? Io ho stampato la prima pagina giusto per darvi il titolo. La quarta valutazione che è datata il 13 dicembre 2018 prende in considerazione questo compliance report sulla situazione dell'Italia e in realtà si occupa di tutta una serie di aspetti della corruzione e solo a margine accena la problematica della prescrizione. Va anche detto che la Corte europea, la Corte di giustizia si è occupata della problematica della prescrizione con una nota sentenza nella quale diceva se l'Italia vuole adempiere gli obblighi che ha assunto bisogna che disapplichi la normativa sulla prescrizione quando questa rischia di impedire che siano puniti una serie di reati contro l'interesse dell'Unione europea. In realtà poi la Corte costituzionale ha detto che questa è una norma così formulata, troppo vasta, non applicabile al nostro sistema e quindi in realtà più che pronunciarsi sull'incostituzionalità ha detto semplicemente che da noi questo non si può fare. In realtà se andiamo a vedere quello che fa l'Europa, l'Europa non ci tira tanto le orecchie sul fatto della prescrizione come si vorrebbe dire, ma in realtà ci tira le orecchie sul fatto che la giustizia è estremamente lenta e questo è realmente il problema. In realtà quando parliamo della prescrizione e di ciò che l'Europa ci dice sulla prescrizione parliamo della febbre, cioè parliamo di un sintomo, non della malattia. Quindi accanirsi sulla terapia del sintomo senza affrontare le cause che determinano questo sintomo in realtà è assolutamente inutile se non dannoso. Quindi in definitiva l'Europa non vorrebbe da noi meno prescrizione, l'Europa vorrebbe da noi processi più veloci e sanzioni che arrivino alla fine del processo. Se mi è consentito posso citare una recente statistica che l'Unione delle Camere Penali italiane ha fatto con l'Eurispes in cui si vede che in realtà su 10.000 processi il 60% nello svolgimento del processo e il 60% dei rinvii e dei ritardi sono fisiologici, cioè appartengono al normale svolgimento del processo, non alla patologia. Se poi aggiungiamo che ci sono anche elementi di patologia come mancate notifiche, difetti nel funzionamento degli uffici e via dicendo ci si accorge che in realtà è il sistema in sé a dover essere rivisto. Aggiungo a margine che in tutto questo i terribili avvocati che da tanti sono stati chiamati in causa come possibile causa, perdonate il bisticcio, di queste lungaggini in realtà in questo studio risultano essere responsabili per un 5%, anche perché a ben considerare l'avvocato può fare e può chiedere in udienza solo ed esclusivamente quello che il sistema normativo e poi in ultimo il giudice gli consentono di fare. Quindi nuovamente torniamo a dire il problema è nella struttura del sistema, nel modo con cui è organizzato. Questo deve essere riformato secondo l'Europa. Sì, anche perché spesso e volentieri la prescrizione già matura durante la fase delle indagini preliminari. Quindi possiamo dire in definitiva che la prescrizione non è poi il vero e proprio male della giustizia italiana? No, in realtà se la devo vedere io tra l'altro lo posso vedere in una doppia veste perché sono un avvocato ma ahimè presto anche la mia attività come magistrato onorario nell'ufficio della procura. Quindi vedo i due lati della barricata. In realtà se vogliamo la prescrizione intanto effettivamente è l'unico stimolo per il giudice e per le cancellerie a cercare di non perdere tempo in un processo perché se togliamo quello non ci sono più ragioni che non siano legate alla buona volontà dell'uno e dell'altro di finire rapidamente un processo. E poi effettivamente la prescrizione impedisce il verificarsi di situazioni che andrebbero anche contro se vogliamo il buonsenso prima ancora che il dettato costituzionale perché punire una persona dopo vent'anni che magari ha commesso un errore tra virgolette di gioventù all'età di vent'anni si ritrova a quarant'anni che ha già una famiglia, dei figli, un lavoro ha cambiato vita, si è ravveduto e tutto e si trova magari di fronte a una sentenza di condanna che gli arriva addosso dopo una serie di passaggi fino alla Cassazione e ritorno e dopo vent'anni perde qualunque senso e invece di garantire un qualche tipo di giustizia garantisce sicuramente un'ingiustizia. Quindi se vogliamo possiamo riassumerla così. La prescrizione sotto certi aspetti impedisce anche che si attui quel famoso detto Un'ultima cosa, visto che il mondo della giustizia italiana e non solo si è divisa in origine per la separazione delle carriere per quanto riguarda i magistrati, ci siamo accapigliati sulla riforma delle intercettazioni, adesso è la volta della prescrizione. Però magari non si potrebbero indicare in uno dei veri e propri mali della giustizia la mancanza di fondi e di risorse che mettono proprio a rischio anche la funzionalità dei tribunali stessi e delle cancellerie? Sicuramente per quanto posso dire nella mia esperienza personale c'è un problema di risorse. Io per esempio ho notato che ormai vengono utilizzati per supplire le problematiche della cancelleria i cosiddetti stage che vengono attribuiti ai vari giovani e che in realtà stanno lì magari sei mesi quando sono pronti, hanno imparato qualcosa, vanno via, ne vengono altri, i cancellieri ricominciano e quindi poi questo si riverbera sul funzionamento del processo, mancano le notifiche, sono fatte male e via dicendo. Lo stesso discorso riguarda in generale la magistratura, c'è una magistratura togata e dall'altra parte c'è uno Stato che cerca di rimediare, tra virgolette, con pochi soldi utilizzando la magistratura onoraria che è nata per essere una sorta di supplente che doveva coprire, tra virgolette, i buchi dell'operato del giudice togato, in realtà ormai costituisce una colonna portante senza la quale non si potrebbero fare maggior parte dei processi monocratici del giudice di pace. Quindi sì, uno dei problemi è la mancanza di risorse, mancanza di risorse che in realtà si aggancia anche, forse, a una struttura processuale estremamente farraginosa e complessa che richiede a sua volta molte risorse. La stessa riforma della prescrizione farà sì che molti processi che adesso, tra virgolette, morivano magari poco dopo il primo grado, resteranno attivi nelle cancellerie per un tempo molto lungo, quindi aumentando l'attività e gli oneri e gravando quindi ulteriormente le corti d'appello e una corte di Cassazione ormai asfittica perché non riesce più a far fronte a tutto quanto. Questo ci riporta a concludere. Sì, c'è un problema di fondo che meriterebbe un approccio di tipo strutturale non parcellizzato e che sicuramente pesca su una cronica mancanza di risorse al sistema giudiziario. Grazie Avvocato Gerisente. Prego. Grazie mille.